Ciao a tutti, sono Chef Nick, quello scassab***** che pubblica ricetta e profusione su ItalianCup. Girerò tutto l'Abruzzo per voi e vi mostrerò tante cose buone del territorio. Una splendida giornata, la colazione del marinaio e siamo pronti per partire. Salute! Amo la nostra cucina e rubo ogni genere di ricetta, anche questa. ItalianCuping! Adoro pescare nei nostri mari! Via Giglio Flora, uno dei nostri partner. Seguitemi su ItalianCuping! Spera 6, seconda. Ah che bello oggi, è una bella giornata. Aspetta, aspetta, aspetta. Devi aspettare azione. Oh raga, cellulari. 8 bis, terza. Top, buona, buona, andiamo.